La città di Monaco Il centro è totalmente zona pedonale ed è uno scenario straordinario. Ovunque si guardi, palazzi, sculture, angoli di valore storico, come la chiesa di San Michele. Il municipio, con il suo famoso carillon con statue ad altezza naturale, trasmette il ritmo alla città, mentre ai suoi piedi, turisti di tutto il mondo, lo riprendono. La Vergine in oro, con la sua presenza, benedice la piazza del municipio, la Marienplatz, cuore della città. Il duomo, la Frauenkirche, è l'emblema di Monaco. Chi non conosce la cartolina raffigurante le due torri? La zona pedonale Per molte miglia lo shopping è reso ancora più piacevole dalla presenza di piccoli e a volte anche grandi artisti. Si vuole fare una piccola sosta? A pochi passi di distanza, uno dall'altro, si trovano bar, ristoranti e locali di ogni tipo. E tutte le strade portano alla Hofbrauhaus, la più famosa birreria del mondo. Festeggiamo allora una giornata perfetta, secondo l'antica tradizione bavarese, con una bella birra fresca. Ma il centro ha un altro asso nella manica, il Giardino Reale, dove ognuno può trasformarsi in un vero principe. Circondato da edifici possenti, tra cui la sede del governo bavarese, è il luogo ideale anche per celebrare il giorno più importante della vita. Grazie a tutti.